Primi di categoria Allora, categoria Cadetti Saccucci Francesco Lo sponsor Allora sì, abbiamo la stessa del Giavai, Ranalletta Da parte Ranalletta, lei è Rosa Maria Passi Facciamo un grande applauso Eccolo qua, Ranalletta Eccolo qui Ciao caro Piccolare della rivista di Giavai Che è una delle più importanti riviste di Roma Est Lo vogliamo ricordare, ha rotto un abito io peraltro Che ha messo in posizione questi preghi Per tutti gli altri, oltre al primo Ok, benissimo Allora, questa è una grande giornata Oltre al civismo, abbiamo detto, di solidarietà C'è il teletro, ci sono artisti scomparsi E' stato ricordato tutto E adesso è il momento della gioia E' il momento della gioia Quindi, preverai tu Preverai la nostra Bassi E abbiamo anche Beatrice No, ma Beatrice No, abbiamo tutti Maria Teresa Battaglia Che preverai anche lei Lo faranno a turno Allora, il nostro grande speaker ciclistico Conocerà i nomi di coloro che si saranno premiati E questi tre sponsor Provideranno Grazie mille Allora, primo dei cadetti Sartucci Francesco Ecco, 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 ecco Ecco, ecco, ecco Per esempio, se ti mette davanti I premi sono No, no, primo, secondo, terzo, quarto e quinto Allora, quindi, da di là Sartucci Prende il prosciutto E se lo mangia Va bene? E poi lo ha Lo dire Ecco, ecco Prego Secondo, Pasquasi Roberto Pasquasi Ma Ragazzo Bravo Terzo Di Silvi Luca Terzo Di Silvi Luca Quarto Quarto Baffile Diego Abbiamo premiato i cadetti Adesso passiamo al genere Primo Clidio Ivan Antonello Ah, eccolo Arriva, arriva Eccolo qua Secondo Secondo Di Fazio Vincenzo Terzo Terzo Tessio Domenico Tessio Domenico Tessio Domenico Quarto Quarto Allora, tra i premianti O premiatori O premiatori O premiatori Con loro che prendono C'è anche Patrizio Battaglia Che fa parte Della relazione Anche lei Bacerà E che segnerà i premi Non appena Non appena il nostro speaker Produzione De Luca Mariello Sempre centra Terenzi Paolo Terenzi Paolo Terenzi Paolo Terenzi Paolo Passiamo alla categoria Junior Primo Blasetti Massimiliano Secondo La signora Tossanillo Lorenzo Tossanillo Lorenzo Bacio 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 Finito Junior Super Gentleman Fonsi Dov'è? Ecco Fonsi Il TV Possiamo dire Aniziano Ma non perità Dei ciclamatori D'Abruzzo Eccolo qui Complimenti Fonsi Bravo O quando corriamo con lui Lo facciamo sempre Fonsi 20 anni Primo Danna D'Andrea Il vincitore assoluto Bacio 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 Marco, dove è Marco? Eccolo, Marco Contoni, Marco Contoni, un grande ciclista, il quarto Rossiello, Luciello e Vincenzo, Rossiello, Eccolo qui, Rosa Rondetto, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti